È stata portata a termine dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Rimini un'importante operazione che ha portato al sequestro di oltre 4 kg di hashish, un'autovettura, diversi computer e palmari e oltre 16.000 euro in contanti. Ovviamente in vista della stagione estiva si fanno serrati i controlli sulla riviera e in particolare nella provincia di Rimini. Siamo soddisfatti, è stata una bella operazione, tra l'altro rientra nell'ottica di una collaborazione tra vari reparti della Guardia di Finanza e nello specifico tra l'aeroporto di Fiumicino e quello di Rimini. Nel senso che con i colleghi di Roma stiamo cercando di effettuare un monitoraggio di tutti i cittadini della provincia di Rimini che si recono all'estero in località sospette come possono essere il Pakistan, l'India, la Colombia, la Spagna. E infatti questa collaborazione ha dato il suo frutto. Abbiamo individuato che c'era questo soggetto della provincia di Rimini che rientrava da un viaggio in India sottoposto a controllo il bagaglio, uno a Roma, l'altro a Bologna, hanno consentito di individuare un doppio fondo abilmente ricavato all'interno del quale erano occultati della sostanza stupefacente dell'ashish di ottima qualità del tipo pakistano. L'estate si avvicina, Rimini e la Romagna saranno particolarmente soggette ad un afflusso di tante persone. Siete pronti? Sì, noi siamo pronti. Il problema è che effettivamente ultimamente si è avuto questa impennata di tipologie di reati per cui la situazione diventa incandescente. Rimini sta diventando una frontiera di guerra.